Lentamente muore, chi diventa schiavo dell'abitudine, ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi, chi non viaggia, chi non fugge, chi non rischia l'incertezza per la certezza, per inseguire un sogno, chi non si permette almeno una volta nella vita di sfuggire dai consigli sensati, lentamente muore, chi abbandona un progetto prima di iniziarlo, evitiamo la morte a piccole dosi, ricordando sempre che essere vivo richiede uno sforzo di gran lunga maggiore del semplice fatto di respirare. Grazie Grazie